Benvenuti cari amici di nel cuore delle parole è un nuovo appuntamento e possiamo dire è un nuovo anno, il 2021 che iniziamo con un nuovo libro che è uscito da poco ma verrà presentato chiaramente un po' più avanti perché il momento è quello che è, le presentazioni pubbliche chiaramente sono vietate però non è vietato parlarne abbiamo con noi Mariella Castellino ciao Mariella, ciao, ciao Alessandro una cunese, una castellettese ritornata perché è stata per alcuni anni in Veneto per abbastanza anni in Veneto è tornata ed è la sua terza fatica letteraria infatti leggiamo nel risvolto che ha già pubblicato con Fusta di Saluzzo nel 2011 il reggimento degli spiantati e nel 2015 ha pubblicato con Primalpe vostro figlio per sempre e quest'anno 2020, barra 2021 è uscito un libro dedicato al suo paese, un passo indietro storia vera e verosimile di un paese allora il paese è Castelletto Stura giusto? sì, è Castelletto Stura che conta 1360 abitanti e l'indice di questa popolazione non è mai aumentato più di tanto ci si conosce un tempo ci si conosceva di più ora si è anche un po' sviluppato verso Cuneo quindi sono nuove famiglie ma un tempo ci si conosceva tutti la mia infanzia la mia prima adolescenza e la giovinezza sono state lì a Castelletto Stura al quale sono legata proprio d'affetto ecco e in Castelletto hai anche un'associazione sì in collaborazione con il Comune abbiamo creato dieci anni fa un'associazione per corsi che ha un duplice significato allora possiamo creare dei corsi come possiamo anche così andare per dei percorsi certo sempre per il bello e il bene del paese allora abbiamo già realizzato niente meno che la rievocazione storica del reggimento di Despiantà che è stata una grande esperienza collettiva e di comunità poi abbiamo dedicato alle chiese soprattutto la cappella che invito a visitare vicino al cimitero la cappella di San Bernardo abbiamo dedicato dei totem con le spiegazioni storiche artistiche di queste cappelle abbiamo fatto tante cose ora se io dovessi dirti tutto quello non abbiamo tempo dobbiamo parlare del libro però una delle cose che avete fatto è il tuo scialle esatto e anche la maglia e anche la maglia allora ho creato un laboratorio per donne se gli uomini vogliono venire vengano pure aperto a tutti e allora ci troviamo il martedì pomeriggio ora no purtroppo non esistono condizioni di età si va dai 17 18 13 fino ai 90 anni c'è una signora che ha 90 anni e il laboratorio è aperto arrivano delle persone vengono lì a vedere noi facciamo sia maglia sia uncinetto ma è tutto con uno scopo preciso la solidarietà tant'è che l'anno scorso abbiamo devoluto 2000 euro alla Lilt di Cuneo sempre per solidarietà qual è l'obiettivo è di stare insieme di condividere le esperienze di creare una piccola comunità alla quale siamo molto molto affezionati poi si serve anche il tè a una certa ora cioè il ben essere cioè lo stare bene insieme ecco questo è molto bello mi auguro che si possa riprendere riprendere abbiamo fatto anche dei mercatini in giro sempre per scopi di solidarietà molto bene questo amore per il paese Maria Castellino ha scritto questo libro un passo indietro appunto storie vere e verosimili di un paese e in copertina c'è un'immagine di Castelletto della vecchia Castelletto chiaramente e sono tante storie di personaggi tante storie vere tante storie quasi vere e adesso se ne parlerà ecco perché storie vere e verosimili intanto e lo sapevo che mi avresti fatto questa domanda non abbiamo concordato le domande per fortuna ma Alessandro scommetto che me lo chiede cominciamo dal titolo allora va bene storie vere ce ne sono 19 praticamente sono o narrazioni di persone che sono ancora vive o che comunque nel frattempo perché guardate che ho impiegato cinque anni per riuscire ad elaborare questo libro che non è neanche tanto spesso però non so nei confronti di un libro io vivo dei momenti di odio amore di rifiuto di accettazione e quindi ho impiegato cinque anni a realizzare questo libro allora storie vere perché appunto i testimoni ci sono ci sono sono proprio vere sono 19 storie verosimili sono personaggi che o io ricordavo o certa gente ricordava e quindi sono andata in giro a intervistare queste persone diciamo di una certa età che mi potevano raccontare di alcuni personaggi che io neanche ho conosciuto in certi casi li ho conosciuti in altri no le hai sentite raccontare le narrazioni ecco quelle vere ho parlato proprio con i testimoni quindi sono più che vere ecco quelle storie ecco parliamo di qualcuna allora cominciamo ad esempio di un personaggio che perché qui c'è la storia di un tempo sono appunto un passo indietro perché chiaramente le storie sono virgolette vecchie diciamo alcune sono già di qualche anno fa ad esempio cominciamo da quella della donna tedesca che a me piace molto troppo per dire a me scusate piace molto questa donna tedesca che subisce dei traumi nella sua vita a causa dell'Italia per la guerra quindi dice non voglio mai avere a che fare con l'Italia e naturalmente quando è così il destino si accanisce e alla fine sposa un italiano e viene a vivere ecco questa è una storia vera una donna verissima no? assolutamente sì è verissima io l'ho conosciuta l'ho frequentata per tanti anni tutta la mia famiglia amici di famiglia la mia famiglia d'origine e lei parlava perfettamente il piemontese pensa un po' eh sì e quindi questa storia dimostra come al di là dei pregiudizi al di là delle come dire delle porte chiuse no? rispetto a qualcosa alla fine guarda un po' i sentimenti prevalgono 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 su questa donna che dice non vorrò mai incontrare un italiano perché mio papà è stato ucciso in Italia in provincia di Caserta assolutamente e poi e poi leggerete come andrà a finire però è interessante questa vicenda davvero lì è proprio la grande storia una piccola storia testimone della grandissima della grande tragedia del novecento cioè la seconda guerra mondiale che ha messo gli uni contro gli altri in maniera tragica come non mai e poi ci sono altri personaggi bellissimi per cui ad esempio questa foto di una foto diciamo molto attuale perché c'è un signore con una gallina e con una mascherina chiaramente una foto scattata nel 2020 e parliamo di Gigi l'ambientalista questo signore qua davvero un personaggio anche lì è una grande storia cioè l'ecologia lui è al centro della sua vita lui è al centro di tutto mette la natura sì vedi hai proprio citato bene hai fatto un distingo al quale io veramente credo e nel quale credo cioè la differenza fra piccole storie e grandi storie però le piccole storie si intersecano con la grande storia cioè qua in questo libro ci sono personaggi che loro erano bambini che vedevano la guerra con gli occhi dei bambini ci sono personaggi come la signora di prima che comunque sono poi immigrati da noi no c'è il ragazzo con con handicap allora no diversamente abile che era inserito era un mio amico era inserito con noi quando era il momento si visticciava con lui era sordo muto eppure si visticciava torniamo al personaggio Gigi Trucco Gigi Trucco vive dopo aver lavorato fatto un lavoro così nello schema tradizionale cioè un lavoro in ferrovia ecco aveva questa come dire passione per la natura no e allora è incominciato a creare un bosco ha un bosco lì a Castelletto Stura e quando nel suo giardino fioriscono le rose lui ti invita a vedere queste rose non ti invita solo così a prendere un caffè e un tè vieni a vedere le mie rose quindi è un personaggio caratteristico con una sensibilità particolare e allora lui lascia un testamento se hai notato in questo racconto sia all'inizio sia alla fine e ha sottolineato con me metti questo testamento cioè lui crede fermamente nell'ecologia e quanto c'è di più importante oltre che ad altri problemi enormi che abbiamo come la tecnologia che avanza in modo veramente a volte spropositato o la paura nucleare per dirvi cosa c'è di più importante del clima del clima in questo momento e lui ha questo bosco dove fa piantare le piante per esempio se nasce un bambino se nasce un bambino si pianta una pianta dimmi se non è un bel messaggio questo assolutamente io penso al famoso libro l'uomo che piantava gli alberi di Jean Jeanot in Francia è questo uomo che copre una regione piantando gli alberi e ha cambiato il clima di quella regione perché un territorio che era abbastanza arido piantando le piante alla fine si è creata proprio una diversa biodiversità perché le nuove sono arrivate ci sono le piante si crea davvero le piccole storie possono cambiare il mondo cioè il gizio ambientalista potrebbe essere paragonato a Greta Greta ha avuto i riflettori puntati per fortuna e il mondo intero sta cambiando opinione e Gigi sicuramente fa parte di questo grande mondo che sta cambiando e speriamo in meglio nonostante tutto nonostante certe cose che accadono in questo momento e la pandemia naturalmente e poi ci sono altri personaggi meravigliosi pieno questo libro di personaggi veramente che probabilmente ogni paese ha ogni paese ha questi personaggi ha avuto perché poi una volta forse più di adesso questi personaggi che passavano nei paesi questi più o meno vagabondi oppure venditori ambulanti che andavano nelle cascine che inoltre era più normale di oggi oggi poi tra l'altro in questo momento attuale è ancora peggio io penso una volta che era normale viaggiare in autostop adesso pensare a uno che chiede in autostop lo vedi come un utore non carichi mai nessuno in autostop quindi questo libro è pieno di bellissimi personaggi a volte appunto un po' borderline diciamo pure però il mondo è bello è bello per questo poi ad esempio si apre con un personaggio che è uno che fa le meridiane che è mancato da non molto pochissimo tempo è mancato Battista Battista abbiamo avuto una frequentazione anche lì di anni come famiglie come nonni prima come genitori dopo quindi Battista Giraudo potete poi leggerlo insomma è partito come lavoratore come muratore ma aveva una grande passione nutriva una grande passione quindi veniva in bicicletta tutte le sere a Cuneo per studiare la scuola per perfezionarsi nel disegno ecco e lui alla fine comunque ce l'ha fatta ce l'ha fatta a dipingere sia meridiane sia piloni sia quadri e adesso voglio dirti una cosa noi come associazione percorsi abbiamo intenzione e la famiglia è veramente ammirevole di tra virgolette adottare due quadri di farli riprodurre in grande e di abbellire il centro storico del paese dove lui è nato quindi sì ci sarà un quadro su Castelletto Stura un profilo di Castelletto e un altro sulla biblioteca dove c'è la biblioteca per Castelletto è una biblioteca sia per bambini sia per adulti che funziona benissimo quindi queste realtà a volte non sono conosciute non sono conosciute però in una piccola comunità come quella di Castelletto c'è un fermento che tu non immagini il fermento che c'è attorno anche alla cultura di quel paese per dirvi non so fanno le gare di tamburello fanno altre cose il Val del Sabre che è una rievocazione storica anche quella dell'invasione Saracena Saraceni esatto esatto ma certo questa vivacità è grazie anche alle persone come Mariella che sono state lontane per un po' di tempo sono tornate soprattutto devo dire noto negli anni che coloro che sono andati tornano è un po' come il figlio del prodigo hanno voglia di riappropriarsi delle proprie radici perché uno si vive in un paese sempre non sa cose delle cose che ha finché non t'anno lontani si dà ma cavolo il mio paese era bello il mio paese aveva delle cose importanti non era un paese da cui soltanto scappare valeva la pena e quindi molto spesso appunto persone come Mariella che tornano e rifanno bello un paese questo libro contribuirà senz'altro a questo io spero che tanti altri paesi abbiano personaggi come te che scrivono storie perché sicuramente ripeto sono vicende che molto probabilmente ci sono in altri paesi ad esempio appunto parliamo prima dei vagaboni ci sono due personaggi che si incontrano e si diciamo che si appunto come dire quasi litigano per avere il posto da dormire in una cascina che poi era la sua giusto? la mia la nostra la nostra cascina e questo era un racconto di mio papà ce lo raccontava sempre ecco vorrei fermarmi un attimo so fermarmi sul fatto di andare e poi tornare certo in effetti le radici hanno un richiamo molto profondo e io ogni volta che vado a Castelletto dove abbiamo la casa nel centro storico dico dove andrei a vivere oltre che a Cuneo dove mi piace immensamente vivere e verrei a Castelletto stura perché ho condiviso tante cose una cosa che volevo dirti è questa tra le storie verosimili se posso ancora assolutamente ce n'è una l'illusione la prima e lì pensate c'è il discorso della emigrazione in America laddove sono tante le narrazioni sull'emigrazione in America le difficoltà qua c'è un'emigrazione dove viene reciso il filo del sentimento fra due persone è un racconto molto triste è molto triste però sembra un po' una telenovela non lo è non lo è è una realtà io l'ho vissuta indirettamente e direi anche abbastanza direttamente questa storia in seguito certo e quindi questa ragazza che viene lasciata lì a Castelletto stura e non si è mai più ripresa per questa delusione e questa è l'immigrazione tipo ti sposerò vengo a prenderti raggiungimi invece scomparmi nel nulla e poi sa dopo come è andata a finire ma non tutte le storie sono a lieto fine purtroppo se vogliamo raccontare la realtà qualcuna è a lieto fine e molte altre invece un po' meno senti tu racconti tante storie hai chiaramente intervistato hai conosciuto ecco sanno tutti di essere dentro il libro quelli che sono vivi o i familiari nessuno andrà a bussare alla tua porta per dire no 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 sono tutti contenti non vedono l'ora che il libro sia presentato allora faremo un evento appena possibile io mi auguro in primavera a Castelletto Stura per presentare perché ci tengo molto a presentare il libro capisci e quindi faremo un evento e tanti mi chiedono ma allora il libro c'è il libro c'è ma io lo tengo nascosto gelosamente nascosto sotto la neve adesso adesso sotto la neve sta covando lì sotto e poi in primavera nel solaio a Castelletto Stura appena scioglierà la neve e scioglierà un po' la pandemia siamo tutti vaccinati almeno un evento all'aperto qui siamo più tranquilli facciamo un bel evento all'aperto sì 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 ho già pensato dove con la è logico con la collaborazione dell'associazione di cui sono presidente la percorsi più il comune di Castelletto più la Proloco perché c'è anche la Proloco sicuramente avremo un telegram a filmare questo evento perché domenitarà senz'altro grazie ascolta visto che il tempo scorre domanda finale tu sei la terza fatica letteraria molto diverse le tre cose una su una storia antica una su una storia recente cioè una sulla storia della guerra della guerra in Russia e questo adesso ecco un prossimo progetto hai in testa un prossimo libro anche questo ho detto me lo chiede di Alessandro allora per il momento no devo un po' prendermi un periodo sabbatico intanto si sa presentare questo quindi nel 2021 lo passerai a presentare questo libro qua dopo di che man mano io sono convinta che nascerà in me qualche altra voglia non certamente di romanzo assolutamente perché non sono in grado non mi ritengo una scrittrice mi ritengo una persona che dipinge alcuni momenti tra virgolette dipinge alcuni momenti e fatti di un paese in quello precedente libro precedente che appunto vostro figlio per sempre aveva esattamente 156 lettere da mettere a confronto quindi è stata un'impresa non da poco però mi ha dato un sacco di soddisfazione questo spero mi dia soddisfazione ecco è stato molto bene Marielle è una professoressa una preside quindi scrive davvero molto bene è un piacere legge tra l'altro il libro voglio ancora dire due cose il libro è molto ricco di immagini che arricchiscono appunto ogni racconto e sotto ogni immagine c'è una frase di qualche personaggio famoso anche non tanto famoso ma sono tutte veramente bellissime ma è banale devo dire che spesso queste frasi sono banali devo dire la verità nel tuo caso veramente hai scelto delle frasi veramente già soltanto ecco uno che non so chi sia Mario Vassal le delusioni sono speranze che si sono sbagliate ecco già questa frase qua non la capisco bene però mi dà da pensare tanto quindi già queste anche le frasi sono belle e sono belli anche i tanti pezzi che hai tanti come dire quadri che hai scelto perché davvero sono belli è un bellissimo libro Mariella complimenti posso aggiungere una cosa c'è un altro racconto al quale sono affezionata a tutti ma in modo particolare dimostra come Castelletto era già all'avanguardia si facevano già le lotte sindacali già allora grazie della vostra attenzione grazie Alessandro il tempo passato Mariella ha capito che il tempo era passato che è una palestra quindi sa quanto è quando suono la campanella noi erano tutti pronti sulla porta per uscire però è stato un piacere ascoltarti parlare con te quindi speriamo di vederti presto presentare questo libro o al chiuso l'aperto chissà appena si potrà perché non ne possiamo più io spero l'aperto proprio Castelletto abbiamo una bella struttura e quindi vedremo tutte Castelletto lo comunicheremo tutte le grande grazie Mariella e grazie a voi per questo appuntamento con quelle parole nel primo del 2021 grazie grazie a voi grazie a voi